Stefano, mi hai portato a Porto Cesareo? Sì Sara, ti ho portato ancora a Porto Cesareo, come ti dicevo e come ti dirò sempre, è una delle più belle località del Salento. Siamo al centro di Porto Cesareo, proprio sulla penisola Cesarina, e stiamo a circa 150 metri da quella che è la riviera di Ponente, una delle passeggiate più belle di questa località. Entriamo a vedere questa proprietà, una proprietà unica, disposta su più livelli. In realtà si tratta di più appartamenti, al piano terra un appartamento completamente ristrutturato, mentre al primo piano uno stato rustico dell'abitazione, composta da quattro stanze, come vedete con un balcone. Quindi vi consigliamo di valutare un possibile investimento imprenditoriale su questa scrittura, perché Porto Cesareo, come ben sapete, è la meta più ambita del Salento. Sì, venite a trovarci, non prendete questa meravigliosa occasione. Ciao da Mondo Immobiliare con Sara! Arrivederci! Ciao!